Eccomi qua, Maurizio Poli, buongiorno. Una piccola regola per gli investimenti, per gli investitori. La regola numero uno, non esiste rendimento senza rischio. Quindi non esiste rendimento senza rischio. Bisogna stare attenti, spesso nel mondo degli investimenti, che è fatto a volte anche di promesse ingannevoli, che ti promette rendimenti alti, alti rendimenti, e garantiti questi rendimenti, o protetti questi rendimenti, dimentica, o diciamo fa finta di dimenticare, che la regola numero uno di cui sopra, di cui dicevamo, non esiste rendimento senza rischio. Quindi stiamo molto attenti dove mettiamo i nostri soldini, e non facciamoci ingulosire le situazioni con promesse di alti rendimenti. Ricordiamoci sempre che senza il famoso rischio non esiste rendimento. L'altro aspetto è da tenere conto anche, per quanto riguarda la parte dell'investitore, anche dei tiri costitutali dell'investimento. Si sono rapportati sempre al suo orizzonte temporale, alla sua propensione al rischio, e a tutte le altre cose che abbiamo detto nelle varie piccole incursioni video. Un piccolo suggerimento, sul nostro canale YouTube, Poli Maurizio o Your Solutions, trovate altri video di piccole pillole di educazione finanziaria, o suggerimenti per navigare nel mondo degli investimenti. Ricordate sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani. Il nostro sito è www.mauriziopoli.it e un contatto è www.m.poli.chiocciolo.io.it e un numero di telefono è 0372 20405. Alla prossima!